Siamo qui con Piezzo, primo tempo di questa cantera, un po' in difficoltà contro il QDV, è arrivato soltanto un gol che sembrava riaperto il match, però poi un crollo nel finale del primo tempo, cosa serve nel secondo tempo per cercare di riaprire il match? Nel primo tempo abbiamo sbagliato molto la fase difensiva, è sempre sicuramente più finita al centrocampo e anche in attacco, è sicuramente una fase difensiva più solida, se no la vedo dura. Boccalò per il secondo tempo, andiamo a parlare ora con i giocatori della formazione del QDV, andiamo da bianco, bianco! Ottimo primo tempo per questo QDV, prestazione diciamo positiva, bisogna continuare così per il secondo tempo, ci sono buoni propositi per il proseguo di questo torneo, calcolando che questa è la prima giornata. Sì, stiamo giocando benissimo, stiamo segnando diversi gol, speriamo di continuare così anche per il secondo tempo. Boccalò per il secondo tempo, professoressa, seconda partita con il secondo boccia ragazzi. Ciao ragazzi, eccoci nella prima giornata di Christmas Cup 2014 SK, siamo con i migliori in campo del match la cantera contro quelli del Vannella, migliore in campo in assoluto Fabio Carrieri, migliore dei suoi, Piezzo. Piezzo, partiamo proprio da te, uscite sconfitti al campo con un pesante passivo, però qualcosa nel finale si è visto di partito, dovevate iniziare già prima a giocare un po' a pallone. Sì, sicuramente abbiamo sperato molto di più nel finale, però non è strabito a niente e sicuramente non ci si è creato a spunto per la prossima partita. Sicuramente sapete da dove dovete ricominciare, però comunque anche merito agli avversari che credo che nel girone è sicuramente l'ottimo per il primato perché deve avere una buona squadra, che ne pensi? Sì, sicuramente sì, si vede che giocano insieme da tanto tempo da tanto, perfetto, bravissimo. E si vede che hanno un'intesa molto più collaudata della vostra. Piezzo, comunque in ogni caso la tua prestazione insieme a qualche altro elemento anche buona, a tratti, ma comunque si sono viste belle giocate. Vuoi dedicare questa prestazione a qualcuno in particolare? Ah beh, penso che non ho fatto una prestazione diciamo di primo livello, però ho fatto del mio meglio, dedicarla a la squadra. Perfetto, perfetto. Ok, complimenti a Piezzo, in bocca al lupo alla cantera per le prossime partite, ciao. Puoi salutare anche l'avversario, Fabio Carrieri, grande bomber dai tempi di dieci anni fa quando ce l'aveva difesa, adesso sei veramente un attaccante di sfondamento, Fabio è andata bene, i ragazzi contro un po' giovani, giustamente partite in discesa da subito, sono altre le partite più dure di questo girone. C'è una differenza di età, differenza fisica, poi comunque noi siamo una squadra abbastanza affiatata, giochiamo proprio insieme, e vabbè però ci aspetteranno partite molto più difficili. Speriamo, sicuramente nel girone ci saranno partite più toste, più toste più, che saranno pane per i vostri denti. Fabio, ottima prestazione per te, migliori in campo, dedicala a qualcuno. La dedico alla squadra, che abbiamo fatto una buona prima, e solo grazie alla squadra. Sicuramente, sicuramente. Complimenti Carriere di nuovo, in bocca al lupo al QDB, ciao.